Ma che bontà che sono questi involtini con la fesa di tacchino e un bel ripieno cremoso di patate. Sbucciate le patate, tagliatele a pezzi, versateli in acqua e fatele cuocere per 15 minuti. Tagliate poi il formaggio a piccoli pezzi. Quando le patate saranno pronte, toglietele e schiacciatele direttamente in una ciotola. Aggiungete dell'erba cipollina tagliata finemente, un goccio d'olio, un pizzico di sale e di pepe e del prezzemolo tritato. Mescolate bene ed amalgamate bene tutti gli ingredienti. Unite poi i cubetti di formaggio e mescolate ulteriormente. Prendete la fetta di fesa dei tacchino e mettete al centro del ripieno, arrotolate poi e fermate con un filo d'erba cipollina. Versate un goccio d'olio sulla pirofila, adagiate i rotolini ed aggiungete un goccio d'olio in modo che così in cottura la fesa rimanga bella morbida. Fate cuocere in forno statico già caldo 180 gradi per 15 minuti oppure in frigitrice ad aria a 200 gradi per 10 minuti. Buonissimi e facilissimi! Grazie! Grazie!